Ancora discariche abusive tra la zona industriale di Battipaglia e Deboli. Il livello di inciviltà e di responsabilità sta raggiungendo limiti impensabili. Rifiuti di ogni genere dagli elettrodomestici e computer, dall'abbigliamento all'umido, dai mobili alla plastica. Una zona martoriata da continui abbandoni. Non si fa in tempo a bonificare che dopo qualche giorno i rifiuti si accumulano nuovamente senza rispetto per niente e nessuno. Un costo, quelle o due le bonifiche, che ritroviamo sulle nostre bollette. Gesti che si ripercuotono su tutta la cittadinanza. Stiamo programmando nuove telecamere e per quella zona è pronto un PON che ci permetterà un controllo più costante. Chi sbaglia pagherà, affermato Stefania Vecchio, assessore all'ambiente. Io purtroppo ho dovuto appurare che c'è una generale mancanza di senso civico. Assolutamente. Io ringrazio Alba perché obiettivamente in questi mesi, contrariamente a quello che si dice che non lavora, ha lavorato tantissimo. Però gli allarmi sono tali, le richieste sono tante e tali che è difficile coordinare tutti quanti gli interventi. Noi abbiamo chiesto alla Polizia Municipale ma anche ad Alba, allora ad Alba abbiamo chiesto una mappatura di queste zone per capire anche se ci può essere una... Poi invece alla Polizia Municipale abbiamo chiesto un maggior controllo anche in termini sanzionatori perché purtroppo, lo devo dire con molto dolore... Raccolta a differenza del fatto male. Allora, gli tozzoni, gli incivili capiscono solamente quando vengono colpiti... Certo. Nella parte economica. Nella parte economica. Perché bonificare queste discariche a cielo aperto comporta un costo che ricade solamente su tutta la comunità, non solamente sulle persone che hanno effettuato questi sversamenti.